Parliamo dell'estetismo, che è una tendenza del decadentismo presente nell'arte e nella letteratura europea nella seconda metà dell'Ottocento. Il principio fondamentale è quello dell'arte per l'arte, cioè l'arte deve essere separata da un incondizionamento morale, bisogna fare una poesia pura. L'artista deve ricercare il bello, l'artista è l'esteta che prova disprezzo verso la società, vuole una vita raffinata e va alla ricerca del piacere e della bellezza. I maggiori esponenti dell'estetismo sono in Inghilterra Oscar Wilde con il ritratto di Dorian Gray. In Italia invece abbiamo Gabriele D'Annunzio, che conia l'espressione del vivere inimitabile. Scrive nel 1889 Il Piacere, il romanzo racconta la storia di Andrea Sperelli, un nobile ragazzo che vive a Roma e si innamora di due donne, Namuti che rappresenta la donna fatale e Maria Ferrezzi invece la donna Angelo.